Grazie Presidente. Allora, in questo percorso che abbiamo effettuato sulla stesura di questo regolamento, ho visto anche la partecipazione del Consigliere Corsetti, che ringrazio perché, voglio dire, comunque ha contribuito insieme ai Comitati di Cittadini alla stesura di questo regolamento. Però devo dire che questa volta è stato leggermente distratto, perché questi emendamenti che avevano presentato i Comitati di Cittadini stanno esattamente, le parole che ha presentato nell'emendamento, stanno già nel regolamento. Per cui il voto contrario è semplicemente perché già c'è nel testo. Esattamente. Sì, guarda, vai all'articolo 3, all'articolo 3, all'articolo lettera L, io sto leggendo il regolamento, ora leggo il regolamento, tu leggi l'emendamento. L, disporre campagne di interventi di monitoraggio periodico dei livelli di inquinamento acustico. M, assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini in merito al rumore ambientale, ai livelli di inquinamento acustico e dai relativi effetti. Devo dire che ce ne sono, consigliere Corsetti, ci sono altri emendamenti che in realtà sono già stati accolti e che lei ha presentato. Per questo il motivo è il voto contrario, ma solo perché sta già nel testo. Grazie.